Cari amici, in una lezione precedente abbiamo parlato del bronzo medio a Creta, questo periodo che va grosso modo dal 2100 al 1750-1700 a.C. Oggi parleremo del bronzo medio nella Grecia continentale e nelle Cigladi. Vi ricordo brevemente quello che abbiamo detto a proposito della situazione cretese. Abbiamo detto che questo periodo del bronzo medio era particolarmente interessante nella storia di Creta perché coincideva con l'apparire dei primi palazzi, che sono queste grandi strutture architettoniche, nate nelle regioni più fertili dell'isola, e che sono in grado di raggruppare varie funzioni, tra cui la funzione economica. Il palazzo è un centro verso il quale sono diretti i beni provenienti da una regione e dal quale questi beni vengono ridistribuiti a coloro che lavorano per conto del palazzo. Una funzione politica perché evidentemente chi ha in mano l'economia di un territorio gestisce de facto le sorti di coloro che vivono su quel territorio. Una terza funzione è chiaramente la funzione amministrativa per controllare i movimenti di cui i magazzini sono il teatro occorre disporre di uno strumento in grado di aiutare la memoria nelle varie operazioni contabili resesi necessarie. Ad esempio, bisogna saper controllare le entrate e le uscite dei prodotti dei magazzini. Ed è così che a Lerna, ad esempio, nella Grecia continentale, ma nei primi palazzi di Creta, troviamo questi strumenti amministrativi chiamati le cretule di argilla. Cosa succede nella Grecia continentale? Nella Grecia continentale succede che dopo il periodo del bronzo antico, di cui Lerna, che citavo poc'anzi, è una testimonianza, dopo questo periodo del bronzo antico, che è stato particolarmente importante e fertile nella Grecia continentale, appare un periodo di impoverimento. Un periodo di impoverimento legato a trasformazioni profonde, socio-economiche, legate all'emergere di nuove situazioni provocate da una invasione. Lerna, nel bronzo antico, era un sito importante, un sito ricco, adesso la situazione cambia, si entra in una fase di recessione, perché è evidente che un nuovo popolo si è affacciato nella storia della Grecia continentale. E vediamo come quindi articolare questa lezione. Parleremo prima della cultura del medioelladico, bronzo medio, nelle regioni al di fuori di Creta. Vi dirò qualcosa dell'architettura, dei riti funerari e dell'arrivo dei greci di Cafcania. Questi saranno i quattro grandi argomenti che affronteremo in questa lezione. E cominciamo con la cultura del medioelladico nelle regioni estranee a Creta. Vi dico subito che la forte soluzione di continuità di cui vi parlavo, quella che spazza via nella Grecia continentale gli abitati del bronzo antico, questa forte soluzione di continuità è indubbiamente legata alle invasioni indoeuropee, perché dopo, per almeno 500 anni, vi saranno ben pochi cambiamenti nella Grecia continentale. Come immaginare questa invasione indoeuropea? Innanzitutto cerchiamo di capire chi sono gli indoeuropei. Gli indoeuropei sono delle popolazioni che hanno la loro origine nel nord dell'India, nell'Asia centrale, e che lentamente, ma oserei dire inesorabilmente, si sono trasferite verso ovest. La parola indoeuropea copre bene questa realtà, ma va subito detto che l'indoeuropeo, la lingua che era parlata da queste varie popolazioni, è una ricostruzione puramente teorica fatta sulla base del confronto tra le lingue utilizzate da questi popoli che sono spostati e che si sono insediati in Germania, in Gran Bretagna, in Francia, in Grecia, in Anatolia, eccetera. Questi vari popoli che si sono spostati dal nord dell'India e dall'Asia centrale lentamente nel corso dei millenni hanno ovviamente occupato i territori dell'Europa occidentale e dato via a nuove esprezioni linguistiche, diverse ovviamente a secondo delle regioni, ma legate da un sottile filo di Arianna che riconduce alla situazione dello spostamento di queste popolazioni in un periodo che grosso modo possiamo immaginare intorno al VI millennio avanti Cristo. Quindi dal nord dell'India, dall'Asia centrale, si spostano questi popoli e migrano in direzioni varie. Chi va verso l'Anatolia saranno lì Titi, chi va verso la Grecia diventeranno i Greci, chi va verso la Francia e l'Inghilterra saranno i Celti, i popoli germanici vanno verso la Germania e quindi occupano tutti questi territori, ma in queste varie lingue nate dalla grande diaspora indoeuropea vi sono elementi comuni che possiamo riallacciare alla situazione del punto di partenza dell'invasione e quindi grosso modo all'inizio del sesto millennio avanti Cristo. I greci arrivano in Grecia, questi indoeuropei, arrivano in Grecia intorno alla fine del terzo millennio avanti Cristo e sono sicuramente loro i responsabili delle distruzioni di cui gli insediamenti della Grecia continentale portano alla traccia. In altri termini queste popolazioni indoeuropee, questi greci cancellano in gran parte quello che esisteva prima, impongono una nuova società alla Grecia continentale. E' interessante vedere che la cultura del bronzo medio legata a queste invasioni appare diversa da una regione all'altra. Questa soluzione di continuità si manifesta in modo diverso ad esempio nella Grecia centrale e meridionale, nella Grecia settentrionale, nell'est dell'Egeo e nelle Cicladi. cerchiamo di vedere rapidamente questi elementi oserei dire zona per zona. Cosa succede nella Grecia centrale e meridionale? Innanzitutto abbiamo un numero elevato di siti attestati in quel periodo, sono circa 500 e in tutti questi siti dell'Ellà di Commedio del Bronzo Medio notiamo che c'è un periodo di recessione o di stagnazione nelle varie località che vediamo elencate qui. C'è un abbassamento del livello di vita, un abbandono delle relazioni tra comunità e quindi un'inevitabile assenza di progresso economico. i particolarismi locali emergono e sono la conseguenza del ripiegamento delle comunità su se stesse. Quindi questa gente arriva, distrugge, poi si chiude. Si chiude e quindi vi è l'inevitabile recessione legata a una situazione di stagnazione. questo periodo dura fino alla fine dell'adicomedio e durante questo periodo cosa vediamo? Vediamo per esempio una diffusione delle case ad apsidi. Per esempio qui vedete un particolare tettonico importante della casa a pianta apsidata della fase 5 di Lerna questa fase che ha sostituito la bella casa delle tegole di Lerna del bronzo antico quella casa delle tegole di Lerna che era indefingiva un piccolo palazzo perché conteneva anche al suo interno questi strumenti amministrativi di cui abbiamo parlato c'è l'apparizione del tornio pervasai e l'apparizione dei primi vasi in ceramica monocroma grigia tipo minio ecco ne avete un esemplare sotto gli occhi queste trasformazioni sono precedute su alcuni siti come Lerna appunto Asinè nella vicina Argolide Tirinto Argolide sempre Ziguryes Aiamarina e Chira da distruzioni sicuramente provocate dall'arrivo degli indoeuropei e quindi dei greci ovviamente occorre come sempre capire un fatto che dovete ricordare le invasioni cari amici non sono mai cose repentine un'invasione come l'invasione di un popolo indoeuropeo è una cosa che prende tempo non è che un popolo si sveglia un giorno e dice ma gli invasori sono alle porte scappiamo no non è così io faccio molto spesso il confronto con quello che succede nelle nostre società occidentali e prendo due casi quello dell'America degli Stati Uniti d'America è quello dell'Europa sapete che negli Stati Uniti d'America vi è una lenta ma inesorabile invasione tra virgolette di popolazioni ispanofone cioè di persone che entrano nel territorio degli Stati Uniti e importano nel territorio degli Stati Uniti nuovi usi nuovi costumi e anche una nuova lingua lo spagnolo in alcune province degli Stati Uniti in alcuni stati come la Florida ma non solo la maggioranza della popolazione è praticamente ispanofona e questo immaginate rappresenta un cambiamento radicale per gli Stati Uniti aggiuntete a questo ad esempio che il tasso di natalità in seno alle popolazioni ispanofone degli Stati Uniti è di gran lunga superiore al tasso di natalità presso le popolazioni e le famiglie anglofone questo vuol dire che tra una due tre quattro cinque generazioni una parte estremamente importante se non addirittura la maggioranza della popolazione degli Stati Uniti parlerà come madrelingua lo spagnolo e non l'inglese pensiamo a quello che succede in Europa fino a pochi anni fa la popolazione italiana era una popolazione a 99,9% fatta da italiani vi erano alcune piccole enclave greche o albanesi nell'Italia meridionale però insomma cosa di poco conto oggi invece con queste migrazioni che provengono dall'Africa è incontestabile che la popolazione italiana sta cambiando e che coloro che vengono in Italia riescono a condurre in Italia la vita economica e sociale di cui sognavano riescono ad integrarsi al panorama socio-economico e culturale italiano però rimangono fondamentalmente e giustamente anche ancorati a radici diverse e quindi c'è qualcosa che si trasforma così come qualcosa si è trasformato in Francia come qualcosa si sta trasformando in Inghilterra in Germania eccetera eccetera viviamo in un mondo laddove le invasioni esistono sono importanti ma non hanno questo carattere irruento che uno poteva immaginare quando parlava ad esempio delle invasioni barbariche e anche alla fine dell'impero romano e anche queste invasioni sono veramente da riconsiderare alla luce di quello che vi dicevo non è un arrivo repentino devastante distruttore è qualcosa di molto lento che porta ovviamente a cambiamenti profondi in seno alla società vediamo quello che succede nella Grecia del nord e qui avete una immagine dalla Grecia settentrionale della Tessalia va detto subito che il bronzo medio in questa regione è meno conosciuto semplicemente perché il periodo in questione è stato meno individuato dal punto di vista archeologico in altri termini per usare una frase più semplice si è scavato di meno e quindi ovviamente le testimonianze scarseggiano la Tessalia tuttavia è una provincia della Grecia mesoelladica cioè del bronzo medio la ceramica minia importata è abbondante vi ricordate abbiamo visto un esemplare della ceramica minia prima vi sono case con absidi come la casa absidata di Lerna frequenti delle tombe a Cista e sul sito tessalico di Argissa come a Coracu o a Creusi c'è uno strato di distruzione che divide i livelli del bronzo antico da quelli del bronzo medio che vedono apparire questa ceramica detta la ceramica minia grigia quindi anche qui anche se le testimonianze sono meno importanti perché si è scavato di meno troviamo una situazione simile a quella che abbiamo descritto per la Grecia centrale con anche questa ceramica minia grigia che è tipica della Grecia centrale del bronzo medio ora vediamo un'altra zona del panorama egeo le cicladi troviamo tracce di bronzo medio su circa 15 siti delle cicladi vedete qui un'immagine delle cicladi vi ricordate perché si chiamano cicladi perché sono le isole disposte a forma di cerchio intorno intorno all'isola sacra di delo laddove è nato il dio greco per eccellenza Apollo quindi in questa zona delle cicladi nel cuore dell'Egeo abbiamo una quindicina di siti all'incirca dove troviamo testimonianze del bronzo medio uno di questi siti è importante è Filacopì nell'isola di Mielo un altro sito importante è Aghiaerini a Cheo l'insediamento di Filacopì a Mielo quello che corrisponde alla seconda città di Mielo Aghiaerini invece di cui abbiamo le immagini immagini della pianta sotto gli occhi sono i livelli 4 e 5 che presentano testimonianze importanti del bronzo antico a Paroichia a Paro abbiamo di nuovo delle tracce di questa civiltà del bronzo medio e l'assenza di soluzioni di continuità di rottura tra l'evoluzione delle città 1 e 2 dell'insediamento di Filacopì per esempio spinge a vedere nella fase di transazione del cicladico antico al cicladico medio una fase leggermente diversa rispetto a quello che è avvenuto nella Grecia continentale cerchiamo di vedere quello che abbiamo detto prima e di riassumere nella Grecia continentale sia centrale del nord vi è una forte soluzione di continuità segnata dall'arrivo di un popolo nuovo che abbiamo identificato con il popolo greco con questi invasori indoeuropei che sono in Grecia nelle cicladi invece vediamo una fase di transazione a Filacopì a Melo tra la città 1 e 2 quindi tra il cicladico antico e il cicladico medio questa fase di transazione sembra non avere il carattere distruttivo che abbiamo individuato per le due precedenti regioni della Grecia che abbiamo preso in considerazione quindi questo probabilmente è legato a una transizione più dolce le popolazioni si sono conosciute non si sono scontrate probabilmente perché siamo nelle isole e probabilmente perché prima hanno raggiunto il continente poi lentamente si sono spostate anche verso le isole delle cicladi e hanno dall'interno senza traumi eccessivi modificato attraverso questa situazione di transazione il panorama socio-economico di queste isole delle cicladi e di filacoppi in particolare questa fase di transazione nelle cicladi è segnata da due elementi c'è un cambiamento radicale nell'impianto dell'abitato e la concentrazione degli abitati su stiti strategici fortificati come questo qua di Aiaerini Acheo o di Capo Urio Natino questo potrebbe essere legato alla recrudescenza della pirateria e a probabili interventi cretesi e qui mi rifaccio alla storia di Creta un attimo ricordatevi quello che abbiamo detto una volta abbiamo detto che Minosse seguendo anche in questo nostro discorso il racconto di Tucidide Minosse riesce a debellare i pirati dell'arcipelago e a installare i propri figli nella maggior parte delle isole questo avviene già a partire del bronzo antico però è una cosa di nuovo molto lenta l'occupazione minoica è un fatto che si è protratto per certamente generazioni e generazioni per non dire secoli prima di creare ad esempio a Santorini il grande la grande città minoica di cui abbiamo già potuto parlare a più riprese ovviamente vi sono stati periodi in cui si sono verificate probabilmente delle conquiste parziali del territorio cicladico quindi questo desiderio da parte delle popolazioni cicladiche di creare delle fortificazioni potrebbe essere legato a incursioni o al timore di incursioni provocate da i cretesi quali sono le invasioni le innovazioni che abbiamo ecco questo filacopì di cui vi ho parlato questo è la bellissima venuta dell'abitato di filacopì come vedete è difeso e quindi questa gente che viveva a filacopì si sentiva minacciata e probabilmente minacciata dal mare quali sono le innovazioni che ritroviamo per esempio troviamo questi bei vasi prodotti nelle cicladi come questo vaso anche rinvenuto a Lerna che appartengono senza alcun dubbio anche a un'influenza cretese vi devo parlare di un sito estremamente importante quello di Colonna nell'isola di Egina importante perché questo sito rappresenta senza meno il sito dove probabilmente si è fatta la transizione tra il bronzo medio e il bronzo tardo grazie all'apparizione di una società particolarmente ricca ne riparleremo più avanti questa è la pianta dell'abitato di Colonna a Egina e qui su questo vaso ovviamente frammentario proveniente da Egina vediamo che sono documentate delle barche con degli uomini armati a bordo di queste barche questo vuol dire che la navigazione era ripresa una navigazione che certamente ha portato ne riparleremo più avanti a un incremento economico della città di Colonna e quindi all'apparire di una società più ricca capace di inventare cose nuove e di provocare l'eclosione che porterà alla famosa civiltà greca continentale dell'erradico tardo ovvero al periodo delle tombe a fossa di Micene ne riparleremo ripeto più avanti vediamo quello che succede nell'Egiene orientale ecco l'Egiene orientale ovviamente Troia lì troviamo nell'Egiene orientale dei cambiamenti culturali e dei disordini paragonabili a quelli della Grecia continentale e delle cicladi l'Anatolia occidentale quindi Troia ha avuto un ruolo nei cambiamenti che coinvolgono il Mediterraneo e anche il bacino egeo la Troia 2 è distrutta Termi 6 è distrutta altre distruzioni coinvolgono altri grandi siti dell'Anatolia come Becce Sultan vari siti della regione di Yortan e la città di Tarso il bronzo antico 3 immediatamente anteriore al bronzo medio è una fase di profonda trasformazione sul sito di Troia e che permette di capire in tutta la loro ampiezza attraverso le sequenze del città 3 4 e 5 quello che è successo a Troia la cultura della Troia 3 è parallela a quella della Troia 2 abbiamo vasi antropomorfi il tornio rapido il famoso Depas Amphikipelon Troia conserva dei legami culturali stretti con alcune isole delle cicladi come Chio Lemno Lesbo con cui forma la cultura troiana marittima quindi un centro importante che ha rapporti commerciali seguiti con il resto dell'Egeo Troia 4 cambia e abbandona la fascia Egea per rivolgersi maggiormente alla fascia anatolica la Troia 5 è distrutta la Troia 6 vede l'estensione della città alta la costruzione del muro difensivo lo vedete qui un armamento diverso una ceramica diversa l'introduzione del minio grigio e l'utilizzo del cavallo e questo in definitiva secondo me è legato ovviamente alla presenza di un popolo nuovo un popolo indoeuropeo così come nella Grecia continentale parliamo ora della cultura materiale e dell'architettura i siti del bronzo medio ve l'ho detto sorgono sui siti del bronzo antico la superficie tende ad aumentare come Aios Stefanos a Malti in Messenia le case indipendenti le une delle altre sono impiantate in modo irregolare nelle colline i muri di terrazzamento producono un elemento strutturale non vi sono in questi abitati piazze strade fuonie pozzi o cisterne e i rari esemplari di fortificazioni sono tardivi come a Malti qua o sull'aspis di Argo oppure influenzati dalla tradizione cicladica come sull'acropoli di Colonna a Egina le tombe i rituali funerari abbiamo l'inumazione nell'abitato che era scomparsa nel bronzo antico 2 che ripare e riappare nel bronzo antico 3 e si generalizza durante il bronzo medio quindi la gente seppellisce i propri morti nell'abitato le tombe sono di vari tipi le abbiamo a forma irregolare e a bassa profondità a cista questo è l'altro abitato fortificato di Egina vediamo i rituali funerari le tombe a cista di Argo abbiamo dei tumuli questi tumuli appaiono nel bronzo antico 2 e si diffondono nel bronzo antico medio bronzo medio nel bronzo medio nella Grecia continentale in Messenia in Argolide in Attica in Focide ma sono sconosciuti nel resto dell'Egeo hanno da 3 a 20 metri di diametro l'attestazione del fuoco è importante per i riti funerari alcuni autori ritengono che i tumuli sono legati a una tomba di grande dimensioni a Voidochilia per esempio il tumulo fu reutilizzato per la tomba Micenea ovunque troviamo tracce di inumazione e sono sempre inumazioni fatte nello stesso momento simultanee non si riaprono mai le tombe l'emergere dell'elite e questo ovviamente appare perché è questo legato a uno sviluppo economico l'elite è la popolazione che si è arricchita che ha a suo capo un personaggio importante che desidera ovviamente per la sua ultima dimora un corredo imponente e anche una costruzione di notevoli proporzioni è il caso della tomba a fossa di Colonna a Egina con un corredo vedete straordinariamente importante un corredo che già prefigura quello che saranno i corredi suntuosi di Micene abbiamo la grande spada abbiamo dei pugnali abbiamo delle punte di frecce delle punte di lance e un elmo realizzato con zanne di cinghiale quello che ritroveremo ovviamente nell'iconografia Micenea la tomba di Colonna Egina è la tomba di un principe importante che è assolutamente di natura Micenea e vediamo quello che succede altrove a Micene e a Micene abbiamo ovviamente l'apparizione del circolo di Micene con i tesori prodigiosi che sono stati condannati e dedicati alla memoria dei re per poter accompagnarli nel loro ultimo viaggio queste tombe del circolo di Micenea risalgono al XVII XVI secolo a.C. ecco una pianta della ricostruzione del sepolcro ecco le immagini di queste tombe a fossa con il loro corredo al momento dello scavo ecco la tomba gamma del circolo B la tomba di un guerriero importante e ovviamente questo porta a un cambiamento a un ruolo propulsore di questa civiltà dell'Argolide di Micene vedete qui una pianta della cittadella di Micene è qui che cambia tutto con il passaggio dal bronzo medio al bronzo tardo è qui che appaiono le stelle funerarie con le stelle con la scena di caccia dal circolo B ed è in questo circolo B che vediamo questo straordinario corredo funerario con le spade con la maschera funeraria in oro e argento con questi vasi con queste ricchezze inaudite sacrificate alla memoria del sovrano che è stato sepolto in questa tomba del circolo B di Micene questo cambiamento che avviene al momento del passaggio dal bronzo medio al bronzo tardo quindi nel periodo del XVII secolo avanti Cristo è un cambiamento che apre una finestra completamente nuova sulla civiltà di questo periodo in Grecia abbiamo detto che questi greci sono arrivati alla fine del III millennio hanno dopo un periodo di recessione cominciato a riconquistare terreno a contatto con il mondo cretese sicuramente hanno imparato nuove tecniche e come ce lo insegna questo corredo funerario della tomba del circolo B di Micene hanno raggiunto uno sviluppo economico formidabile cosa abbiamo detto dello sviluppo economico formidabile ma che è indispensabile che sia aiutato assecondato dall'arma della scrittura e quindi naturalmente uno si aspetterebbe di trovare delle tracce di documenti scritti risalenti a questo periodo delle tombe del circolo B di Micene orbene queste tracce sono venute fuori guardate questo ciottolo ritrovato a Cafcania vicino Olimpia porta una iscrizione in Linare B con il più antico nome greco mai attestato Carroquo eccolo qua un nome che è scritto da destra verso la sinistra che corrisponde a Carops un antroponimo che è attestato nell'Iliade e che è il nome di uno di quelli che combattevano sotto le mura di Troia questo ci consente senza alcun dubbio di collegare questa cultura al mondo greco e questo documento di Cafcania dimostra che questa gente parlava e scriveva il greco quindi sono dei re creci che sono sepolti nelle tombe di Colonna Egina del circolo B di Micene e ovviamente anche del circolo A